Il sindaco Rebecchini Le copertine dei loro libri venivano rinnovate ogni anno con tavolette dei massimi pittori. Caso unico al mondo che ci fa amare il fisco in nome dell'arte. Poesia di questi interni d'ufficio coi mobili dalle sagome lunghe. Del 600 questa traslazione della Madonna nella chiesa a lei delicata. Qui invece il Camarlingo se ne lava le mani mentre la Vergine protegge la città. Col ministro Scerba inoltriamoci tra un popolo di statue. Madonna del quattrocentista Mattia di Nanni detto il Bernacchino. Figure di sovrana eleganza, l'angelo del Turino che rende contemplativo il questore Polito. Grazia goticheggiante della Vergine di Montalcino. Una preghiera fu trovata entro i frammenti di questo Cristo. Del quale il Baitani ci narra la divina tragedia.